Musica Stiamo cercando informazioni sugli ospiti speciali e stiamo organizzando una presentazione Ok, io sto modificando le foto Guardi, scusi eh, perché queste cose... Mi lasci il compito Ho fame Ecco il mio nuovo amoroso Sì Giorgio, proprio alle nostre spalle sta passando il proprietario dell'azienda il signor Stucchi Che pare abbia trovato una soluzione al problema Ora inseguiamo Buongiorno cari telespettatori di Radio Alt Siamo qui in compagnia della Mucca Quarti Parliamo della depilazione cutanea Dov'è che si depila maggiormente? A proposito di depilazione, interpello proprio l'esperto di depilazione, Martin Demizio Come musica d'estate Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi Corri gloria verso il cibo Non è tutto ok Buon latte Tutto ok Sono un po' fuso Parti punto uno Ciao Si gira Siamo qui in compagnia di Nicola Rota Detto il biondo che ci interpreterà Redemption Song by Bob Malley Bob e Bob e Bob e Bob e Malley Sei in rec? Che cosa devo dire? E' stata pesante ieri Però ho qua un bel foglio di montaggio E quindi andrà tutto bene Grazie Cos'è quella zoomata lì? Nooo Sei in a tre punto uno zack otto Oggi sono sposata Sto Sulle mani Roma Disonesto mai lo giuro Ma qua ti più piano Byron Soluzioni per dormire